in tv c'era un documentario sulla chiesa e il medioevo non era certo il solito programma televisivo volevo guardare qualcos'altro ho fatto un giro dei canali ma anche sugli altri non c'era niente di interessante così ho rimesso sul primo canale e mi sono scusato con lui non c'è problema fratello ha detto il cieco per me va bene qualsiasi cosa quello che vuoi vedere tu a me sta bene imparo sempre qualcosa non si finisce mai di imparare non mi farà certo male imparare qualcosa anche stasera le orecchie mi funzionano ha detto se ne è stato zitto per un po' era curvo in avanti con la testa rivolta a me e l'orecchio destro puntato verso l'apparecchio un po' sconcertante di tanto in tanto le palpebre gli calavano sugli occhi ma poi si riaprivano di scatto di tanto in tanto si infilava le dita nella barba e gli dava una tiratina come se stesse riflettendo su qualcosa di quello che sentiva la televisione sullo schermo un gruppo di uomini incappucciati era attaccato e tormentato da altri vestiti da scheletri in costume da diavolo i diavoli portavano maschere diaboliche corna e lunghe come questa scena faceva parte di una processione il commentatore aveva un accento inglese e diceva che la processione si svolgeva in spagna una volta all'anno ho cercato di spiegare al cieco quello che succedeva scheletri ha detto lui lo so che cosa sono gli scheletri ha detto annuendo la tv ha fatto vedere questa cattedrale poi c'è stata una lunga lenta carrellata su un'altra cattedrale alla fine sul video è apparsa quella famosissima di parigi con gli archi rampanti e le guglie che puntano alle nuvole la telecamera è arretrata per mostrare l'intera cattedrale che si stagliava all'orizzonte in certi momenti il commentatore inglese restava in silenzio e si lasciare che la telecamera inquadrasse varie parti della cattedrale oppure l'obiettivo vagava per paesaggi rurali con uomini nei campi che camminavano dietro ai buoi finché ho potuto sono rimasto in silenzio anch'io poi mi sono sentito in dovere di parlare ho detto adesso stanno facendo vedere l'esterno di una cattedrale i grondoni statuette scolpite a forma di mostri adesso mi sa che stanno in italia si stanno proprio in italia le pareti di questa chiesa sono tutte dipinte per caso sono a freschi fratello chiesto lui sorseggiando dal suo bicchiere ho allungato la mano per prendere il mio ma era vuoto ho cercato di ricordarmi tutto quello che potevo ricordare mi stai chiedendo se sono a freschi ho detto bella domanda non lo so mica le riprese sono passate a mostrare una cattedrale fuori lisbona le differenze tra la cattedrale portoghese e rispetto a quelle francesi o italiane non erano poi così marcate eppure c'erano riguardavano per lo più gli arredi interni poi mi è venuta in mente una cosa e ho detto mi è appena venuta in mente una cosa ma tu ce l'hai un'idea di che cos'è una cattedrale cioè di che aspetto hanno capisci se qualcuno ti dice cattedrale hai un'idea di che cosa sta parlando per esempio la sai la differenza che passa tra quella e una chiesa battista lui ha lasciato uscire pian piano del fumo dalla bocca so che ci sono voluti centinaia di uomini 50 o 100 anni per costruirle ha detto l'ho appena sentito dire da quel tizio naturalmente so che intera generazione di una stessa famiglia a volte hanno lavorato una cattedrale l'ho sentito dire anche questo quelli che hanno messo tutto il lavoro della loro vita per cominciarle non hanno mai visto l'opera finita da quel punto di vista fratello non è che siamo che siano molto diversi dal resto di noi giusto si è messo a ridere poi le palpebre gli sono calate giù di nuovo ha tentennato un po la testa pareva sonnecchiare magari stava immaginando di essere in portogallo in tv adesso stavano facendo vedere un'altra cattedrale in germania questa volta la voce dell'inglese continuava a commentare monotona cattedrali ha detto il cieco si è tirato suo sedere e ha cominciato ad ondolare la testa da una parte all'altra se vuoi sapere la verità fratello questo è su per giù tutto quel che so quello che ho appena detto quello che ho sentito dire da quel tizio ma magari me ne puoi descrivere una tua vorrei tanto che lo facessi mi piacerebbe un sacco se proprio vuoi saperla un'idea precisa non ce l'ho mica io mi sono concentrato sull'inquadratura della cattedrale sullo schermo come si fa a descriverla anche a grandi linee ma supponiamo che ne andasse della mia vita diciamo che un pazzo mi minacciasse dicendo che dovevo farlo altrimenti ho fissato ancora un po la cattedrale prima che l'inquadratura passasse di nuovo al paesaggio circostante ma era inutile mi sono rivolto al ceico e gli ho detto tanto per cominciare sono altissime mi sono guardato intorno nella stanza in cerca d'aiuto svettalo nel cielo sempre più su puntate dritte al cielo alcune sono così grandi che devono avere questa specie di puntelli per sostenerle in aria per così dire questi puntelli si chiamano archi rampanti per qualche motivo mi fanno venire in mente dei viadotti ma magari tu non sai nemmeno che cosa sono i viadotti e a volte le cattedrali hanno diavoli e roba del genere scolpiti all'esterno sulla facciata altre volte dame e cavalieri non mi chiedere come mai ho detto lui annuiva tutta la parte superiore del corpo sembrava oscillare avanti indietro non me la sto cavando tanto bene vero gli ho chiesto lui ha smesso di annuire e si è chinato in avanti sul bordo del divano mentre mi ascoltava continuava a passarsi le dita in mezzo alla barba mi rendevo conto che non glielo stavo spiegando tanto bene però voleva che andasse avanti lo stesso mi sono sforzato di pensare a cos'altro dire sono davvero grandi ho aggiunto massicce sono fatte di pietra a volte di marmo ai vecchi tempi quando costruivano le cattedrali gli uomini volevano essere vicini a dio ai vecchi tempi dio era una parte importante della vita di ognuno lo si capisce da tutte le cattedrali che costruivano scusa gli ho detto poi ma mi sa che questo è il massimo che posso fare per te è che non ne sono proprio capace non ti preoccupare fratello ha detto il cieco e sta a sentire spero che non ti dispiace quello che sto per chiederti posso chiederti una cosa è una domanda semplice sì o no sono solo curioso senza offesa sono aspita a casa tua ma permettimi di chiederti se in qualche modo religioso ti dispiace se te lo chiedo ho scrollato la testa ma lui non poteva mica vederlo se annuisci ogni file occhietto per un cieco è la stessa identica cosa mi sa tanto che non ci credo mica in niente a volte è dura sai capisci cosa voglio dire certo ha detto lui appunto ho detto io l'inglese continuava ad andare avanti imperterrito mia moglie ha sospirato nel sonno ha tirato un lungo respiro e ha continuato a dormire mi dovrai scusare gli ho detto ma non ci riesco proprio a spiegarti come fatta una cattedrale non ne sono proprio capace non posso fare meglio di così il cieco è rimasto seduto immobile e mi ascoltava con la testa abbassata ho detto il fatto è che le cattedrali non è che significhino niente di speciale per me niente le cattedrali sono solo cose da vedere in tv la sera tardi tutto lì è stato a quel punto che il cieco si è schierito la gola gli è venuto su qualcosa ha tirato fuori un fazzoletto dalla tasca di dietro poi ha detto ho capito fratello non è un problema capita non stare a preoccupartene troppo così ha detto e sta a sentire me lo fai in favore è venuta un'idea perché non ti procuri un pezzo di carta pesante e una penna proviamo a fare una cosa ne disegniamo una insieme prendi una pezza una penna e un pezzo di carta pesante coraggio fratello trovali e portali qui ha detto e così sono salito di sopra mi pareva di non avere più un briciolo di forza nelle gambe me le sentivo come dopo aver fatto una corsa ho lo vistato un po nello studio di mia moglie ho trovato delle penne a sfera in un cestino sulla scrivania e poi mi sono sforzato di pensare a dove potevo trovare il tipo di carta che mi aveva chiesto sono sceso in cucina e ho trovato una busta di carta del supermercato che aveva ancora delle bucce di cipolla in fondo l'ho svuotata scuotendola per bene l'ho portata di là in soggiorno e mi sono seduto per terra vicino alle gambe del cieco ho spostato un po di roba ho allisciato la busta e l'ho stesa sul tavolino il cieco si è tirato giù dal divano e si è seduto accanto a me sul tappeto ha passato le dita sulla busta ne ha sfiorato su e giù i margini i bordi perfino i bordi ne ha tastato per bene gli angoli perfetto ha detto perfetto facciamola ha trovato la mia mano quella con la penna ha chiuso la sua mano sulla mia coraggio fratello disegna ha detto disegna vedrai io ti vengo dietro andrà tutto bene comincia subito a fare come ti dico vedrai disegna ha detto il cieco e così ho cominciato prima ho disegnato una specie di scatola che pareva una casa poteva essere anche la casa in cui abitavo poi ci ho messo sopra un tetto alle due estremità del tetto ho disegnato delle guglie roba da matti benone ha detto lui magnifico vai benissimo ha detto non avevi mai pensato che una cosa del genere ti potesse succedere eh fratello beh la vita è strana sai lo sappiamo tutti continua pure non smettere ti ho messo dentro finestre con gli archi ho disegnato archi rampanti grandi portali non riuscivo a smettere i programmi della televisione erano finiti ho posato la penna e ho aperto e chiuso le dita il cieco continuava a tastare la carta la sfiorava con la punta delle dita passando sopra tutto quello che avevo disegnato e annoiva vai forte ha detto infine ho ripreso la penna e lui ha ritrovato la mia mano ho continuato ad aggiungere particolari non sono certo un artista ma ho continuato a disegnare lo stesso mia moglie ha aperto gli occhi e ci ha fissato si è tirata a sedere sul divano con la vestaglia tutta aperta ha detto che cosa state facendo ditemelo voglio sapere non ne ho risposto il cieco ha detto stiamo disegnando una cattedrale ci stiamo lavorando insieme io e lui premi più forte ha detto rivolto a me sì sì così così va bene ha aggiunto certo ce l'hai fatta fratello si capisce bene adesso non credevi di farcela eh ma ce l'hai fatta ti rendi conto adesso sì che vai forte capisci cosa voglio dire tra un attimo qui avremo un vero capolavoro come va il braccio ha chiesto ora mettici un po di gente che cattedrale è senza la gente mia moglie ha chiesto ma che succede robert che cosa stai facendo si può sapere che succede tutto a posto le ha detto lui e adesso chiudi gli occhi ha aggiunto rivolto a me l'ho fatto gli ho chiusi proprio come mi ha detto lui gli hai chiusi ha chiesto non imbrogliare gli ho chiusi ho risposto io chieni lì così ha detto poi ha aggiunto adesso non fermarti continua a disegnare e così abbiamo continuato le sue dita guidavano le mie mentre la mano passava su tutta la carta era una sensazione che non avevo mai provato prima in vita mia poi lui ha detto mi sa che ci siamo mi sa che ce l'hai fatta ha detto da un po un'occhiata che te ne pare ma io ho continuato a tenere gli occhi chiusi volevo tenerli chiusi ancora un po mi pareva una cosa che dovevo fare allora ha chiesto la stai guardando tenevo gli occhi ancora chiusi ero a casa mia lo sapevo ma avevo come la sensazione di non stare dentro a niente è proprio fantastica ho detto grazie a tutti